Come di consueto, signori e signori, il nostro Taranto, un gioco in casa, fa punti! Taranto batte, Juve e Sabia 2-0! Giusto per fare un'intro più simpatica. Allora, commentiamo la partita dei nostri ragazzi. 80 minuti di nulla. Cioè, il Taranto molto, diciamo, rintanato, faceva passaggi un po' imprecisi perché ho chiesto la vittoria, però dobbiamo anche sottolineare, da veri tifosi, anche il gioco un po' alternante che offriva la squadra. Un gioco a passaggi alti, non si facevano passaggi ben precisi, avevano più la palla ai giocatori da Juve e Sabia, c'erano molte imprecisioni, tante insicurezze, cioè non si doveva mai aggredire l'area della Juve e Sabia, cosa che da ottantesimi, poi, dell'episodio di rigore che ci stava, il Taranto è riuscito a fare. Cioè, da ottantesimi, poi, tu ti rimporta due gol. Uno solo rigore, uno solo azione. Poi, dobbiamo anche dire che non si giocano le partite su dieci minuti, ma che bisogna dimostrare anche dopo, perché il Taranto, di solito, anche in trasferta, nonostante che le perdiamo, creiamo sempre nei minuti finali. Poi, adesso, poi parleremo anche, in questo video, del lato trasferta. Adesso andiamo a toccare i lati di infortuni. Sono infortuni due giocatori molto importanti per noi, ovvero l'Apriola e Ferrara. Due giocatori molto chiave. Anche la telecronista, che aveva detto, due giocatori non qualsiasi per il Taranto. Sono molto importanti per noi. Ci servono la nostra, come gli AB, Provenzano. Gli AB, diciamo, è un'incognita. Ancora non si sa quanto rientra, speriamo che Cereniola, almeno parte dalla banchina. E niente. È stata una partita veramente sufficiente da parte del Taranto. Sufficiente. Sufficiente perché è importante vincere, allontanarsi sempre di più da quella zona calda, da quella zona pericolosa, perché noi divusi del Taranto non vogliamo frequentare, vogliamo frequentare zone più tranquille, anche vicino ai playoff. Obiettivo non più del Taranto, perché, come dichiarato dagli stessi Capuano, De Maria e la compagnia Bella, che l'obiettivo è la salvezza. Qualsiasi è poco, ma è sicuro. Parliamo dell'altro trasferto. L'altro trasferto è un noccio molto duro, ci fa prendere ponti, ponti anche importanti. Quindi adesso, anche, visto che giochiamo martedì con Cereniola, dobbiamo fare un'altra prestazione per prendere ponti. perché se tu fai 20 sconfitti in trasferta e mi ci sono in casa, alla fine che fai 20 punti, cioè, quanti punti fai in trasferta anche, devi vincere, 20 punti giusto per, ma saranno di più in casa. Però in trasferta bisogna anche cambiare l'ordino di marcia, fare più punti in trasferta, cioè, far convincere che il Taranto sa giocare bene, far ridonare i tifusi allo stadio, perché, onestamente, lo ragomune senza i tifusi del Taranto è come un corpo senza cuore. Passato in questa frase poetica, però era doveroso a dirla. Io, onestamente, capisco i tifusi che sono stanchi di una società, che non c'è stato un programma, non c'è stato un progetto serio, però, se a me mi è il Taranto, dobbiamo accettarlo con me. È difficile, anche per me è difficile accettare una squadra in queste condizioni, condizioni societarie. Un presidente che non ti garantisce nulla, un presidente che non parla, non prende posizione, e dice, ragazzi, le cose stanno così. E spiega la situazione di prima con me, perché noi tifusi al Taranto chiediamo questo. Niente, la partita di oggi, meno male che l'abbiamo vinta, è stato un Taranto, ripeto, sufficiente, ad alcuni tratti un po' sbarazzino, cioè, il barazzino nel senso che buttava la palla a chi che capitava, meno male che era entrato Pannocchi, un portiere che a lui serve, ci dà anche sicurezza. Si è visto, quando è uscito lui da Latina, dopo un poco, non diamo il colpa rosso, perché ancora è appena entrato, non ha preso il colpa, quindi lui ci serve come il pane. Quindi, detto questo, io vi auguro una buona serata, e sempre forza Taranto, sempre a sostenerlo, sempre anche a, diciamo, essere critici, ma allo stesso punto, essere obiettivi della nostra squadra. Buona serata a tutti, e forza Taranto! Grazie a tutti!